Antipasto sushi e bruschetta, di primo pasta e fagioli alla pescatura, di secondo salsiccia con patate e dolce. Natale è a Santa Brigida, un pranzo di solidarietà questa mattina nella Galleria Umberto su iniziativa di 11 commercianti di via Santa Brigida e in collaborazione con la Caritas Decanale e la Caritas Terzo Decanato. Il Comune di Napoli ha patrocinato e coordinato l'evento. Per noi è un'iniziativa di grande spessore, è un'iniziativa di solidarietà voluta fortemente dalla Caritas e dall'Associazione dei Ristoratori di Santa Brigida. Noi siamo orgogliosi di questa proposta, sono stati loro a chiederci di partecipare. Abbiamo preso questa iniziativa per dare mezz'ora di felicità a queste persone che non hanno una casa, un tetto dove dormire. Ho coinvolto i colleghi e subito ci hanno dato la loro disponibilità. In Galleria è intervenuto il coro del Teatro San Carlo, diretto da Gea Garatti Ansini, che ha eseguito brani di Verdi, Mascagni e alcuni canti natalieri. Però va detto che Napoli non lo fa solo a Natale, quindi a Natale ha una valenza simbolica. Però noi tutto l'anno siamo attenti a che queste persone siano curate come meritano, alla riduzione del danno di queste persone, al contrasto alle povertà più estreme. Grazie. 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 Grazie.